Salve a tutti, oggi per Informa Arezzo siamo qui al prato di Arezzo, o meglio più che un prato ormai è la sassaia di Arezzo. A tre settimane dall'avvento del Papa, questa ancora è la situazione. Io mi chiedo quando è che la città avrà il proprio parco indietro? E soprattutto, se fosse stato un concerto rock a fare tutto questo casino, avremmo forse metà città coi forconi? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Grazie.